buongiorno a tutti e benvenuti sul canale di sorer italian player io sono domenico e oggi vi farò conoscere che cos'è sorer 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 è un'applicazione un gioco di fantacalcio basato su blockchain in cui può essere ricompensato schierando la tua formazione ideale con dei giocatori e delle carte che ti vengono date all'inizio quando ti registri e poi e gratuitamente e poi se ti registri tramite il link che trovi qui sotto dopo le prime cinque carte acquistate ne avrai una in più in omaggio che cos'è sorer è un fantacalcio molto probabilmente sostituirà il fantacalcio a tutti gli effetti perché è una visione incredibile del del fantacalcio vediamo un poco come si basa a parte che c'è calcio NBA e MLB al momento analizzeremo solo calcio e noi abbiamo anche le squadre su NBA e MLB però magari lo vedremo in un altro video è un gioco di collezione quindi bisogna collezionare delle figurine vere e proprie digitali che sono degli nft ci sono varie realità ogni realità è rappresentata da un colore la bianca è la common e sarebbero quelle gratuite che quando ti registri te ne daranno in regalo e partecipando ai vari tornei ogni giornata che te ne daranno sempre altre sempre delle nuove e poi quindi questo è per partecipare a tutti i tornei gratuiti mentre poi abbiamo le gialle limited che sarebbero le carte che vengono distribuite mille in un anno le rosse che sono le rare che sono 100 in un anno le super rare che sono 10 in un anno e uniche una in un anno di ogni singolo giocatore ognuna di questi tipi di carte ti farà accedere a vari tornei diversi ovviamente il prezzo è crescendo dal gratuito a quello più sostenibile al prezzo sempre più alto qui come si crea la formazione la formazione su sorella è composto da cinque giocatori dove basta inserire un portiere un difensore un centrocampista un attaccante e una carta extra che può essere un attaccante un centrocampista un difensore tu schieri la formazione nelle quattro giornate che vanno ad esempio nel weekend dal venerdì alla domenica oppure dal lunedì al giovedì nelle infrasittimanali e ogni giornata vengono messi in palio tantissimi premi che vanno in eterum quindi soldi reali che possono essere o caricati sui vostri conti oppure riutilizzate per acquistare altri giocatori mentre se non se volete possono si possono vincere anche tantissime altre carte le carte che si vincono le potete mettere in vendita le potete rivendere o le potete che vi possono essere utili per acquistare o scambiarle con altri giocatori quindi praticamente abbiamo detto questi sono tutti colori stiamo parlando di un sito che ormai è una certezza stiamo parlando di anni ormai che si che si trova nel mondo dell'nft ci sono degli sponsor non da poco tra cui Mbappé Griezmann c'è anche Messi che è stato lo sponsor ufficiale nel durante i mondiali facciamo un piccolo escursus del calcio questi sono i vari tornei a cui si può partecipare il torneo casual si può sarebbe quello che si possono dove si possono usare le carte custom quindi quelle carte gratuita all'inizio come potete vedere questa è la mia formazione che ho schierato per questa giornata ho messo Raul Fernandes, Teo Hernanes, Enzo Fernandes, Tadic e Dzeko e queste carte come abbiamo detto sono completamente gratuiti quindi basta che vi scrivete con il link qui sotto e in descrizione e subito avrete le vostre prime carte su con cui potete cominciare a giocare e a schierare la prima giornata casual la prima giornata inizia proprio oggi il 6 gennaio fra due ore quindi avete ancora poco tempo per poter per potervi registrare altrimenti come passano queste due ore e venti minuti già si apre la prossima giornata e quindi potete registrarvi per la prossima cosa si vince analizzeremo con calma in tutti i video vari i vari tipi di tornei ce ne sono tantissimi ok ma analizziamo il primo che il casual cosa si può vincere con il casual quindi con le carte gratuite il dal primo al centesimo in classifica vince una limited che sarebbe una delle carte gialle che vi ho fatto vedere prima se vincete una di queste con le carte che avete gratuite queste le potete rivendere subito nel mercato possono essere acquistate oppure le aggiungete la vostra collezione e le potete utilizzare per partecipare agli altri tornei tra cui questi dove si che sono misti quindi sono il cartel limited e carte custom com scusate questo essere il quindi se vi è piaciuto questo video mettete subito un like e iscrivetevi al mio canale condivideremo sempre contenuti molto interessanti e seguitemi anche sui social siamo su facebook instagram e twitter su twitter condividiamo costantemente e vari contest che regalano carte gialle o rosse e su facebook organizziamo tornei dove si possono vincere tantissime carte dove organizziamo contest in cui si possono vincere delle carte in modo gratuito e ci potete seguire perché lì condividiamo ogni giorno dei consigli su giocatori da acquistare a pochissimo prezzo che magari vi fanno guadagnare qualche soldo e che hanno un'ottica di miglioramento nel futuro quindi grazie mille a tutti dell'attenzione e ci vediamo presto al prossimo video